Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare Un grande amore sincero ed un felice futuro da vivere insieme per sempre con te Ben ritrovati con il Faro Economia in Luce, siamo in compagnia del tributarista Alberto De Franceschi, benvenuto Grazie Oggi parliamo dei minimi, ovvero di coloro che giovani vogliono aprire un'impresa, un'azienda, cosa possono fare? Ecco, diciamo che il governo una volta tanto ha cercato di dare un'agevolazione a quelle persone sotto i 35 anni che hanno intenzione di entrare nel mondo del lavoro con la partita IVA Allora ha dato delle agevolazioni destinando questo tipo di agevolazione soprattutto ai professionisti Allora, chi sono questi soggetti interessati? Che hanno meno di 35 anni? Lo abbiamo capito Sono dei giovani ragazzi sotto i 35 anni, preferibilmente che abbiano attività a che fare con i servizi o con la professione Anche se il regime può essere fatto anche da soggetti che compravendano sia nell'ambito commerciale Questi sono i soggetti destinatari ultimi Devono avere un'idea che il loro fatturato non debba superare i 30.000 euro l'anno e che questo regime durerà al massimo 5 anni Questa è una novità introdotta E che l'età che loro devono avere come minimo è non più di 35 anni Altrimenti si va a ricavare meno tempo rispetto ai 35 anni Per cui se uno ha 32 anni durerà per 3 anni È chiaro che se uno fa qualcosa vuole avere dei vantaggi Allora quali sono? Certo, ecco questa è una cosa interessantissima Il vantaggio principale è che il regime prevede una tassazione Che si scollega alla proporzionalità dell'imposta IRPEF Rispetto a chi ha un regime normale Quindi loro pagheranno sul loro reddito solo il 5% Un reddito che verrà comunque determinato con la differenza tra costi ricavi Un reddito che sarà soggettabile a quello che è l'IVA Però non sarà soggettabile a ritenuto da conto Perché hanno il 5% che è più basso Su questo reddito pagheranno comunque i contributi previdenziali in maniera ordinaria Ci sono sempre degli adempimenti fiscali Qui è chiaro E anche una casa con delle valigie Perché bisogna conservare veramente l'ira di Dio E invece no Perché in questo regime le valigie non servono In quanto l'unico adempimento a cui sono sottoposti È il modello unico e la dichiarazione dell'IVA Che viene fatto tutto in un unico periodo Che è nel periodo di aprile-maggio E nello stesso periodo loro vanno a pagare in unica soluzione Sia l'IVA che le imposte Ovviamente fermo restanto la dinamica degli acconti Giugno-Novembre-Dicembre E allora quali sono le opzioni per il regime ordinario? Diciamo che quando hanno superato i 35 anni O hanno sforato i 30.000 euro di fatturato Passano naturalmente a regime diciamo semplificato ordinario Cioè vale a dire con una liquidazione periodica trimestrale o mensile dell'IVA E con tutta quella burocrazia che viene fuori Quindi i registri, i cespiti e quant'altro Ecco questo è l'adempimento che viene fuori quando superano il tetto Poi questo adempimento scatta nel superamento del fatturato E viene annotato nella dichiarazione IVA annuale Bene allora abbiamo capito che anche per i minimi c'è un'età E ci sono anche delle novità Io ringrazio come sempre il nostro tributarista Alberto De Franceschi Per essere stato con noi Grazie a voi E vi ricordo come sempre che l'affaro Economia in Luce torna ogni mercoledì Arrivederci E domani forse troverai quello che vuoi E domani forse... E domani forse troverai jeu ora Grazie a tutti